Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi siamo con Maurizio Gomboli, che è giornalista, comunicatore, copywriter e amante in generale della tecnologia. Ecco, la sua biografia recita se hai una storia, raccontala. Quindi prima di parlare dell'argomento di oggi, che sarà la PA, la pubblica amministrazione 4.0, chiediamo a Maurizio appunto di presentarsi, raccontarci un po' chi è, cosa l'ha portato in questo settore, in questa carriera. Dunque, io sono ormai 25 anni che faccio questo mestiere, fin da ragazzo, sono laureato in scienze della comunicazione, ho sempre avuto un forte interesse per il giornalismo, per la scrittura, anche a livello personale, insomma, prima che professionale. Ho avuto la fortuna di frequentare dei maestri, dei professionisti che mi hanno fatto appassionare al tema del giornalismo e soprattutto la fortuna anche di poter lavorare in questo settore, che non è mai scontato. Al momento sono responsabile della comunicazione del CISI Piemonte, che è un'azienda di informatica con sede a Torino, che si occupa di tutta quella che è l'informatica pubblica, dai servizi alle infrastrutture, alla gestione dei dati, eccetera. Chiaramente più che altro per le pubbliche amministrazioni piemontesi, ma ultimamente abbiamo avuto delle adesioni importanti anche ad altre realtà come la città metropolitana di Milano, la città metropolitana di Roma, quindi ci stiamo diciamo allargando. Come sono giunto in questo settore? Appunto, con la fortuna di aver incontrato delle persone che mi hanno fatto appassionare sempre di più. Poi ho collaborato con diverse riviste, soprattutto prima quando avevo magari più tempo libero per poterlo fare, quindi adesso eccomi qua. Ho la fortuna di svolgere il mio lavoro e mettere, come dire, al servizio di una migliore pubblica amministrazione quello che ho imparato e quello che facciamo insieme alle mie colleghe del gruppo della comunicazione CISI. Cosa è la PA 4.0 e quali sono i suoi concetti chiave? PA 4.0 è una bella etichetta che è stata data a un concetto che è sempre più necessario, ovvero quello di rendere la pubblica amministrazione veramente facile, comprensibile e vicina alle persone e sicura. Sono tutti concetti che per chi fa questo mestiere da anni come me ha sentito più riprese, magari molte volte come slogan o collette come quelle delle government che andava tanto di moda parecchi anni fa. Vuol dire che la pubblica amministrazione non deve più essere vista come qualcosa di lontano, qualcosa di faticoso per le persone, perché entrare in contatto con la pubblica amministrazione significa spesso, ancora oggi purtroppo, avere a che fare con testi incomprensibili, con procedure astruse, con moduli e con servizi online che a volte non sono diciamo di grande livello, mettiamola così. Le persone sono sempre più abituate giustamente, per fortuna aggiungo io, ad avere dei servizi nel mondo privato che puntano tutto sulla facilità d'uso, sulla facilità di comprensione, sull'uso dei dati e sulla sicurezza. Queste cose si stanno fortunatamente iniziando a diffondere anche all'interno della pubblica amministrazione. Quindi direi che PA 4.0 sono questi quattro concetti, la sicurezza di poter fare le cose in maniera protetta, la facilità d'uso, la comprensione e aggiungerei anche un po' di bellezza che non guasta mai, la bellezza di poter avere a che fare con delle interfacce piacevoli, ecco. Quindi l'importanza di tutta la parte della UX Design. Ecco, invece proprio te nel tuo ruolo specifico di cosa ti occupi? Noi come comunicazione integrata, ci chiamiamo del CSI Piemonte, facciamo tutte le attività di comunicazione sia interna che esterna che anche al servizio dei nostri soci. Le attività sono quelle, se vogliamo, classiche di un'agenzia di comunicazione. Noi facciamo campagne, abbiamo rifatto anche il look, se vogliamo, al CSI stesso, perché come azienda pubblica con 40 anni di vita soffriva un po' dell'immagine riflessa dalla pubblica amministrazione, quindi qualcosa di poco appunto vicino, poco facile da usare, eccetera. Noi abbiamo lavorato soprattutto in prima battuta per andare in controtendenza rispetto a questa immagine, quindi a puntare un brand repositioning, appunto a una nuova comunicazione, quindi anche a un nuovo linguaggio, una nuova grafica, una nuova brand image e applichiamo questi concetti anche ai nostri enti. Abbiamo realizzato campagne di comunicazione per la città di Torino sul portale di servizi Torino Facile che rappresenta la porta d'accesso per tutti i servizi della città di Torino. Abbiamo fatto un'altra analoga campagna per Salute Piemonte che è il portale dei servizi sanitari. Abbiamo realizzato campagne, intendo campagne proprio per i cittadini, quindi affissioni, spot radio, campagna pubblicità dinamiche sui mezzi di trasporto, eccetera. Quindi sarà molto stimolante riuscire a mettere in pratica questi principi della PA 4.0. Con tutti questi esempi di applicazione che ci hai portato, la domanda surge spontanea. Quali sono le principali sfide che dovete affrontare? Le sfide che dobbiamo affrontare, devo dire che sono un po' quelle che forse la pubblica amministrazione sta affrontando. Cioè, innanzitutto, soprattutto c'è bisogno di un cambio culturale a livello delle organizzazioni. Perché è bello proporre nuove interfacce, linguaggi nuovi, servizi, eccetera. Però manca forse ancora un po' un aspetto di preparazione, anche se vuoi, verso questa nuova modalità. Purtroppo la pubblica amministrazione sconta parecchio un'età media molto elevata. Questo quindi non è di per sé un fattore negativo, ma diciamo come in tutti i rami della vita, ostacola, se volete, un po' la propensione al cambiamento. Quindi, se certe modalità sono state eseguite per 30 anni, dopo 30 anni è difficile fare un'inversione a U e seguirne modalità completamente nuove. Quindi sicuramente c'è bisogno di un change culturale proprio. E in seconda, change culturale che si vede molto soprattutto nei linguaggi, nel linguaggio che viene utilizzato, proprio nell'italiano che viene utilizzato, che continua a essere a volte difficile da calare nei vari contesti, dai social ai siti. C'è bisogno di linguaggi diversi per ogni contesto, quindi c'è bisogno di molta flessibilità. Questo è sicuramente un aspetto magari più difficile. E soprattutto ci sono anche delle necessità di cambiamenti organizzativi, perché chiaramente innovare significa anche innovare i processi, innovare l'organizzazione. Se tu innovi una cosa che non funziona, non funzionerà nemmeno la sua versione online o funzionerà con qualche difficoltà. Quindi c'è bisogno proprio di questi aspetti, prima ancora che tecnologici, di formazione, di preparazione culturale. Quali possono essere le professioni, le professioni anche del futuro? E soprattutto che messaggio invii a queste nuove figure? Chi si vuole avvicinare, diciamo, a questo settore? C'è bisogno di tecnici, c'è bisogno di persone che siano giovani, che portino delle ventate di novità e di mente aperta proprio al cambiamento. So che questo è difficile per la pubblica amministrazione, è stato difficile per molti anni anche per noi. Abbiamo avviato però negli ultimi due o tre anni delle campagne di assunzione proprio per i giovani laureati in materie scientifiche. Proseguiremo, abbiamo un piano di assunzioni abbastanza importante l'anno prossimo, non abbiano paura di sentirsi sminuiti a lavorare nella pubblica amministrazione. È chiaro che il fascino di certe grandi aziende private, del settore IT, magari internazionali, è innegabile. Quindi c'è un grosso terreno su cui lavorare, c'è un grosso terreno poi che vedrà arrivare anche molti fondi da parte del PNRR, questi fondi europei che arriveranno in Italia. Quindi c'è un terreno da conquistare, ci saranno spero le possibilità per farlo. E poi c'è anche un aspetto che magari può essere meno affascinante, però lavorare per il pubblico, per le persone, per la pubblica amministrazione significa aiutare le persone a vivere meglio, perché uno ha bisogno delle assicurazioni, ha bisogno delle banche, ma soprattutto ha bisogno di servizi che funzionino e siano facili e veloci per la propria salute, per il proprio lavoro, per l'essere professionisti, per la scuola. Ovviamente il lockdown ci ha fatto aumentare anche quelli del settore più personale, quindi avere a disposizione dei servizi per avere dei documenti e scaricare dei referti senza andare 18 volte all'ospedale, prenotare, pagare. Abbiamo a che fare con queste cose tutti i giorni, può non essere piacevole, anzi se uno deve fare degli esami di solito non è contento, però se io devo fare un esame preferisco preoccuparmi dal punto di vista clinico e non dovrei preoccupare di andare tre volte a prenotare in cosa allo sportello insieme a altre 100 persone durante un periodo di pandemia. Mi sembra abbastanza intuitivo che forniamo un valore aggiunto che è importante. Quindi ci sono molti spazi e secondo me per tutti coloro che si occupano di dati, ad esempio dei data strategist, sono delle figure che saranno sempre più chiave, perché i dati della pubblica amministrazione sono milioni per limitarsi e abbiamo tecnici per i data center, analisti dei dati, chi deve interpretare, chi deve occuparsi di intelligenza artificiale per fare in modo che i servizi crescano anche da soli, utilizzino questi dati per migliorarsi sempre di più. I settori sono tanti e anche i comunicatori servono chiaramente, anzi sono bene accetti per evitare di trovarsi ancora contesti che prima di dirti cosa devi fare, ti fanno 12 riferimenti a commi e contro commi di una legge e non ti dicono per esempio come pagare una multa in maniera rapida, che è l'unica cosa che vuoi sapere. A tuo parere questi ormai due anni di lockdown e di conseguenza di smart working e di presenza forzatamente digitale delle persone, secondo te hanno comunque in un certo modo accelerato o sbloccato questo processo di sviluppo della PA 4.0? Secondo me l'hanno sicuramente accelerato, magari alcune realtà possono essersi trovate più in difficoltà di fronte a questa accelerazione improvvisa, erano tutte delle tendenze che c'erano chiaramente, però trovarsi di fronte a questa situazione ha di fatto fatto esplodere un'esigenza e una domanda da parte di tutti e secondo me ha tracciato anche un punto di non ritorno, cioè non è più pensabile mantenere delle vecchie logiche nell'erogazione dei servizi, nel non dare dei servizi più semplici, nell'evitare che le persone debbano muoversi, debbano entrare fisicamente in contatto con la pubblica amministrazione. Secondo me è proprio stato un confine e forse questa è una delle poche cose che potremmo ricordare con positività rispetto a questi due anni di Covid, insieme alla capacità di sviluppare un vaccino nel giro di un anno che è stata straordinaria dal punto di vista della ricerca, ma anche lì sicuramente è stata portata a termine grazie anche alle tecnologie, soprattutto grazie alle tecnologie informatiche applicate alla ricerca, quindi si è aperto un nuovo mondo, speriamo che l'Italia al pari di tanti altri paesi sappia cogliere tutte le opportunità che si sono spalancate, sarebbe una delle poche cose buone che deriva da questa situazione, di cui obiettivamente avremmo fatto meno anche per la PA 4.0, voglio essere chiaro, non sto gioendo di niente.